Ciao a tutti cantanti, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Sono qui per proporvi un allenamento, un training online, da 45 minuti una volta alla settimana. Se hai appena cominciato il tuo percorso da cantante o hai appena cominciato a fare delle lezioni di canto, allora ti propongo di iscriverti al corso base. Se hai già da qualche anno che invece studi canto con delle lezioni regolari, allora ti consiglio di iscriverti al corso intermedio. Se invece da parecchi anni che studi canto e hai anche avuto delle esperienze performative, ti consiglio di iscriverti a livello avanzato. Se ti servono più informazioni per l'iscrizione a questo training, potrai contattare questo numero oppure iscrivere a questa mail. E quindi non vedo l'ora di cominciare con voi un percorso di allenamento che potrà affiancarsi al vostro percorso di canto attuale. Vi aspetto! Grazie a tutti!